...secondo gremita di folla in quest'ultima domenica di dicembre... ...ma la sua battaglia continua durante il processo d'appello. Io vi dico sono innocente, lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero, dal profondo del cuore, che lo siate anche voi. Grazie.